No all'area vasta, se con questa si intende riproporre sotto altre forme il concetto di provincia, mettendo di nuovo al centro delle scelte politiche e strategiche Catanzaro. Francesco Grandinetti, presidente del Consiglio Comunale di Lamezia, ma anche candidato alle imminenti elezioni amministrative, tiene a mettere in chiaro le cose, prima che sia troppo tardi. Secondo il politico che ha convocato d'urgenza una conferenza stampa sul tema, da alcune recenti dichiarazioni del presidente della provincia Enzo Bruno sarebbe emersa la volontà di allargare l'area ai comuni dell'Alto e Basso Ionio, compresa Soverato, e lasciando così a suo dire una dimensione catanzaro-centrica. Ma secondo il presidente della Sise Lamedina, l'area vasta invece dovrebbe riguardare solo l'asse della statale 280 e dei comuni limitrofi, e mettere in assoluta parità Lamezia e Catanzaro. Grandinetti chiede poi sull'argomento un consiglio congiunto, ribadendo il suo no anche all'ipotesi di un collegamento diretto tra lo scalo aeroportuale Lamedino e Germaneto, e proponendo invece una metropolitana di superficie che passe all'interno di Lamezia. Grandinetti chiede poi sull'argomento un consiglio congiunto, ribadendo il suo no anche all'interno di Lamezia.